Amici di Lecce Cinema, eccoci qua, il vostro corrispondente Samuele Pasquino, responsabile del sito. Siamo qui di fronte all'Apollo Spazio Cinema, sito in Milano, dove proietteranno fra un'ora o più tante prime This Must Be The Place. Vuoi inquadrare me? Grazie. Ok, This Must Be The Place, regia di Paolo Sorrentino, cast prestigioso, a cominciare da Sean Penn, Francis McDormand e la giovane Yves Pozon, che i più non la conosceranno ma è la figlia di Bonovox, leader degli O2. Ma a proposito cosa dire ancora? Beh, abbiamo avuto un'esclusiva, siamo qua, seguiremo l'anteprimo, speriamo, non ne siamo certi, che ci sia anche Paolo Sorrentino, e niente di più, godremo della visione anticipata di questo film. Per ora vi saluto, ci vediamo alla fine della prossima, grazie.